buonasera buonasera siamo siamo in diretta siamo purtroppo a causa di questa terribile guerra in ucraina angosciati sgomenti affranti immagino che tutti voi come me seguirete le notizie che ci arrivano di ora in ora dai social dalla televisione dal da internet col fiato col fiato sospeso abbiamo però voluto regalarci questa sera un'ora di bellezza quindi dagli orrori della guerra alla bellezza della letteratura abbiamo infatti qui con noi paolo cognetti ciao paolo buonasera a tutti davvero grazie di aver accettato questo invito siamo veramente contenti e salutiamo anna annanuzzolo che condurrà la moderazione ciao anna ciao buonasera a tutti allora di paolo cognetti appunto diciamo famosissimo perché nel 2017 ha vinto il prestigioso premio strega con il libro le otto montagne lui è un autore di libri ne ha scritti veramente tanti vi cito soltanto qualche qualche titolo manuale per ragazzi di successo una cosa piccola che sta per esplodere sofia si sente si veste sempre di nero senza mai arrivare in cima viaggio in himalaya e tanti altri ma è anche un autore di saggi racconti a un blog è documentarista quindi veramente anche eclettico appunto nel suo lavoro oggi siamo qui per presentare su ultimo capolavoro che vi mostro la felicità del lupo che è un libro veramente molto interessante e appassionante e quindi siamo veramente curiosi paolo di sentirti in questa in questa intervista io vi lascio la parola e ci vediamo appunto alla alla fine grazie grazie al pubblico di essere qui con noi anche stasera grazie manuela e grazie alle amiche e gli amici di tali altrove che ci stanno seguendo e grazie e benvenuto a te paolo sono molto contenta di conoscerti e di far scoprire insieme a te il tuo ultimo romanzo la felicità del lupo e la felicità del lupo è una bellissima storia in cui con la tua scrittura essenziale molto precisa ci porti nel tuo mondo della montagna e anche nelle relazioni di amicizia e di amore che si formano tra i tuoi personaggi anche queste relazioni sono essenziali e oneste come la tua scrittura e la storia parte all'inizio di un inverno e finisce nell'autunno successivo quindi attraversiamo le stagioni di un villaggio di montagna e anche un po' le stagioni della vita dei personaggi i quali hanno età diverse bisogni diversi tutti quanti cercano un po' la felicità appunto e quindi ti vorrei chiedere di iniziare a portarci dentro al romanzo parlandoci un po' del titolo quindi di che felicità si tratta e perché di questo misterioso lupo sì buonasera a tutti ma i lupi sono tornati dalle mie parti io abito buona parte dell'anno in in valle d'aosta quindi nord ovest del dell'italia confine più o meno sia con la svizzera che con la francia e dopo un secolo di assenza li avevamo sterminati negli anni venti del novecento sono ritornati pochi anni fa questo è successo un po in tutto l'arco alpino e allora li osserviamo li li studiamo cerchiamo di capire come si comportano cerchiamo di capire come possiamo vivere insieme perché ovviamente in una montagna che ancora dove ancora un'economia abbastanza consistente è l'allevamento del bestiame complicato convivere però ci si prova per fortuna oggi la soluzione non è più quella di imbracciare il fucile anche se in questi giorni sembriamo veramente arretrati a ai momenti più bui del novecento ecco e così questi una cosa dei lupi che mi affascina molto che anche leggendo studiandone davvero non si capisce bene come decidano di muoversi e di spostarsi oggi nel nei nostri boschi la fauna selvatica è abbondante gli ungulati sono moltissimi lupi trovano abbondanza di selvaggina potrebbero diventare stanziali potrebbero stabilirsi in una valle e fare la propria tana lì e diventare animali così sedentari come noi invece qualcosa in loro si rifiuta di abbandonare il nomadismo per cui continuano a percorrere le montagne da una valle all'altra possono spostarsi anche di 80 chilometri al giorno in montagna e a un certo punto il protagonista di questa storia fausto ecco trova una somiglianza tra tra questa irrequietezza del lupo e la ricerca di felicità dell'essere umano perlomeno di molti esseri umani che cercano la felicità spostandosi cercano la felicità cercano nuovi inizi altrove nell'inizio di nuove relazioni di nuovi lavori di nuove avventure di nuovi progetti e invece in questa riflessione lui trova che l'albero sia un essere vivente che la che la sua felicità deve trovarla lì sul posto dove è caduto il suo seme dove ha messo le sue radici che non ha la soluzione di spostarsi di andarsene o di fuggire come noi animali e fausto è proprio uno che dopo aver inseguito la felicità come i lupi per tutta la sua vita adesso vorrebbe trovare la felicità dell'albero c'è la felicità di chi rimane di chi mette radici e questo è un po' il senso della sua storia sì infatti mi sembra che nella storia i diversi personaggi siano alcuni un po' più lupo alcuni un po' più albero forse in questo momento della loro vita e infatti volevo chiederti di parlarci un po' dei personaggi il protagonista come dicevi è Fausto è un quarantenne che lascia la città e si rifugia in un villaggio montano e qui conosce tre persone che diventano molto importanti per lui e gli fanno riscoprire forse un po' questa volontà di stabilirsi come un albero con le relazioni che ci sono lì intorno e questi personaggi sono Babette la proprietaria del ristorante dove trova lavoro Silvia che fa la cameriera nello stesso ristorante e Sant'Orso che è un montanaro uno che appartiene a quei luoghi da sempre e ci vuoi parlare un po' di questi personaggi chi sono cosa rappresentano i primi tre sono forestieri sono proprio un po' i lupi nel senso che è qualcosa che ho visto negli ultimi anni vivendo in montagna la montagna è diventato un luogo che attira molto i desideri di alcune persone sogno di felicità di libertà di una vita nuova e diversa non è un luogo fermo nel tempo la montagna per fortuna da lontano ce la immaginiamo come un posto che sta sempre lì dove niente cambia mai invece la montagna contemporanea esiste e nella montagna di questi anni alcune persone come me sono arrivate dalla città cercando un altro futuro possibile Babette è una che ci è arrivata anni prima negli anni 80 da Milano gli anni 70 erano finiti con il loro carico di utopie rivoluzioni più o meno riuscite più o meno fallite arrivavano gli anni del riflusso gli anni 80 della Milano da bere gli anni del berlusconismo e via dicendo e lei ragazza che si sentiva di essere nata un po in ritardo decide di lasciare la città e andarsene a cercare la sua rivoluzione la sua utopia in montagna quindi questa scelta la fa prima di tutti e tempo dopo apre questo ristorante il pranzo di Babette ispirandosi a un racconto bellissimo di Karen Blixen alcuni conosceranno il film il film è tratto dal racconto in cui questa Babette che è una rivoluzionaria della comune di Parigi dopo la caduta della comune va a fare la cuoca in un paesello in Norvegia e insieme al suo cibo alla sua arte culinaria porta anche un po il suo desiderio di rivoluzione suo calore la sua carica rivoluzionaria questo fa Babette da Milano a Fontana Fredda che è un paesino a 1800 metri di poche anime sulle Alpi italiane e Silvia questa scelta la compie anni dopo lei siamo nei nostri anni la data non è specificata ma si capisce che siamo adesso più o meno lei ha 27 anni è una ragazza di città è in cerca in cerca di luoghi di avventure di lavori come si fa a quell'età in cui non mi piace tanto l'espressione in cerca di sé perché non capisco bene cosa voglia dire è più in cerca di avventura di scoperta ed è bello che ci sia un'età in cui tutto questo è così anche così facile si può partire cercare un lavoro come cameriera in un ristorantino di montagna e vedere come va lei sogna d'estate di andare a lavorare in un rifugio ancora più in alto sul ghiacciaio ha letto dei libri sul ghiacciaio ha scoperto che i ghiacciai delle Alpi si possono paragonare al circolo porare artico e lei quindi sogna questo rifugio sul ghiacciaio come se fosse una base artica in cui passare l'estate e ce la farà invece fausto è un po è un po me è un po un alter ego è uno scrittore lui è uno scrittore fallito che a 40 anni fallisce non solo nel lavoro ma anche nei sentimenti esce da un matrimonio decennale decide di andare a lecarsi le ferite in questo paesino che si ricorda da quando era bambino ragazzino è un po' un rintanarsi è un po' sì un isolarsi dal mondo per rimettersi in sesto insomma credo che tanti sappiano di cosa sto parlando in realtà questa che poteva sembrare una ricerca di solitudine di distanza dal mondo lui trova nuovi incontri l'amicizia con babette che gli offre un lavoro nel suo ristorante lui si improvvisa a cuoco e quella cosa gli piace molto l'amore per silvia che è un amore semplice che nasce subito tra due che si incontrano e si e si tengono compagnia all'inizio per un inverno poi si vedrà e poi c'è questa figura di sant'orso che invece è l'albero sant'orso con l'apostrofo è il santo patrono della valle d'aosta era un monaco irlandese che venne giù nel medioevo a fare l'eremita tra queste montagne e allora mi piaceva nel sant'orso questa essere un po' santi un po' orsi nel suo caso anche un po' ubriacone a un rapporto molto stretto con l'alcol sant'orso però è quello che conosce più di tutto il luogo è quello che sa osservare quello che conosce la montagna e noto ogni cambiamento nel tempo nelle stagioni nel passaggio degli animali sta cercando di capire se è vero che i lupi sono arrivati e se li potrà vedere e con lo stesso sguardo acuto osserva questi esseri umani che passano che vanne vengono e si spera ogni tanto che restano fa molta amicizia con fausto diventa suo diventa suo amico amico anche un po un mentore nel mondo della della montagna però tutti personaggi sono tutti ritratti di persone reali io non sono uno scrittore di invenzione nel senso che non saprei mettermi lì al tavolino e inventare storie personaggi semplicemente estraendo dalla mia fantasia io rielaboro le cose che mi sono capitate le persone che ho incontrato e così sono tutto un po vero infatti si sente leggendoli che sono delle persone un po tutto tondo e dicevi anche che tutti loro cercano in qualche modo un po anche una nuova identità o di esplorare un nuovo modo di essere un po una trasformazione quasi personale se pensiamo appunto fausto da scrittore si mette a fare il fuoco e gli piace come dicevi silvia mi pare fosse una ex studentessa d'arte adesso vuole fare come la chiama fausto affettuosamente l'esploratrice polare babette crea questo questa comune in trasferta e perché proprio la montagna è il luogo in cui questi personaggi possono fare questo percorso personale di esplorazione beh sto parlando con un pubblico se non se non mi sbaglio in gran parte di emigrati e quindi credo che possiate capire bene che cosa significa anche la libertà di ricominciare la bellezza certo il rischio è di lasciarsi alle spalle un'identità delle sicurezze un mondo conosciuto e così e ricominciare da capo però anche la bella grande il gran senso di libertà no di poterlo fare di potersi reinventare cambiare città cambiare anche lavoro ecco queste persone lo fanno in montagna perché hanno un'idea di montagna come spazio di libertà questa non è le alpi ce l'hanno sempre un po avuta questo questo ruolo sono così vicine alle nostre grandi città di pianura da milano torino in un'ora o due sei nelle valli più più remote delle alpi ma anche dalla dalla francia alla svizzera dalla germania eppure è un giardino dietro casa che è subito un altrove è vero che dal punto di vista climatico i 3.000 metri corrispondono al circolo polare e i 4.000 quasi al clima del polo nord quindi è come avere il polo nord dietro le nostre grandi città incredibile insieme a questo paesaggio ecco ci sono possibilità precluse a chi abita in città per esempio è incredibile pensare nel 2022 che le alpi siano un immenso spazio libero nel senso dove non ci sono grandi proprietà private dove tu puoi camminare per giorni e giorni senza nessuno che ti fermi senza nessuno che ti dica qui no qui non si può qui è mio dove tu puoi dormire stendendo un sacco a pelo sul prato e guardando le stelle ecco il senso di libertà che ti che ti dà la montagna io lo conosco bene e questi personaggi si sentono un po sconfitti dalla città e un po anche chiusi dalle regole della città la città è un mondo molto regolato non solo perché appena esci di casa di casa c'è un semaforo c'è un marciapiede c'è un quasi può qui fermati qui passa eccetera ma perché anche tutta la nostra giornata è estremamente regolata da orari norme eccetera 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 e invece loro sognano la montagna come luogo di punto di grande libertà dove in questa libertà potersi reinventare infatti e senti cambiando un po argomento hai citato prima karen blixen che viene a cui fai un omaggio un po nel nel tuo romanzo con il racconto il pranzo di babette e anche poi la citi più avanti per il suo libro forse più famoso che è la mia africa ma il romanzo nel romanzo fai tanti altri omaggi letterari alcuni espliciti e alcuni no per esempio a hemingway a jack london ma anche l'autore italiano e mario rigoni stern e quindi volevo chiederti un po come hanno influito questi scrittori su questo romanzo e anche un po in generale su sulla tua scrittura sulla tua formazione sì sono uno cui piace seminare gli indizi dei suoi maestri delle sue radici nei libri che scrive mi piace anche l'idea che magari qualche giovane lettore possa scoprire altri scrittori tramite tramite me sarebbe un grande onore visto che mi è successo io sono stato un po un autodidatta nel senso che almeno come lettore non ho studiato letteratura però i miei maestri li ho scoperti leggendo poi scoprendo i maestri dei maestri per cui per esempio il primo grande amore è stato carver raymond carver scrittore americano nord americano di racconti brevi lui ha sempre scritto solo racconti e poesie che è molto accessibile per per i lettori giovani facile innamorarsene a 18 20 anni e poi da lui per esempio risalire a hemingway a salinger risalire alla grande tradizione del racconto breve americano che non ha uguali nella letteratura italiana per esempio e poi karen blixen karen blixen per perché ho avuto questa esperienza per me molto forte appunto di andare a vivere in un luogo così diverso da quello in cui sono nato e cresciuto lasciare una città come milano e cercare di cercare di vivere in montagna innamorarmene capire anche le grandi differenze tra di noi tra me questo paesaggio nuovo di cui mi ero innamorato ed ecco ritrovato tutte queste tutto questo e molto altro leggendo la mia africa che lei era una nobile donna danese che nel 1913 lascia la danimarca per andare a vivere in una fattoria in kenia pensate che cosa significa arrivare nel kenia di inizio novecento e nonostante le mille difficoltà se ne innamora perdutamente quindi la mia africa il canto d'amore di una donna verso un mondo così selvaggio indomabile che certo non può non può corrispondere lo stesso amore verso di lei e questo era poi uno dei suoi grandi dolori e ho ritrovato tanto di del mio rapporto con la montagna leggendo lei e quindi è diventato un'altra di queste anime le sento un po così i miei scrittori preferiti un po amici protettori dei santi che stanno lì e mi e mi e mi proteggono mentre scrivo sì infatti li rendi omaggio e a proposito del far scoprire scrittori e racconti io grazie al tuo libro ho letto un racconto di hemingway che non conoscevo che è in another country ambientato a milano in un altro paese è veramente bellissimo quindi ti ringrazio e ne parli nel libro a proposito del del curarsi prendersi cura si dice e degli altri e quindi lo consiglio anche a chi si sta ascoltando se se non lo conoscete e poi per quanto riguarda un autore italiano di cui parli parli di mario rigoni sterno anche lui un amante del mondo della montagna e in realtà nel libro lo citi per una ricetta che fausto sperimenta per per i boscaioli cucinando per i boscaioli queste patate alla mario e quindi ti volevo chiedere se le cucini davvero e se stai anche tu un cuoco fantasioso come fausto sì 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 io ho lavorato anch'io per due anni in ristorante proprio come è successo a lui una volta avevo bisogno di di sbarcare il lunario come succede agli scrittori e ho colto questa occasione di che mi veniva offerta di diventare cuoco in un ristorantino di montagna cucinare mi è sempre piaciuto e cucino sempre io a casa mi piace molto cucinare per gli altri per le persone a cui voglio bene e non l'avevo mai fatto il ristorante quindi ho imparato un sacco di cose quell'anno lì e le patate alla mario sono un mio sì sono un mio cavallo di battaglia ci vogliono cipolle burro e patate bollite e mario rigoni sterne l'anno scorso ricorreva al centenario era del 1921 più che un grande amante della montagna lui era un vero montanaro nel senso che non come me lui c'era nato cresciuto nell'altipiano di asiago questo paesaggio molto particolare del nord est siamo in provincia di vicenza nelle pre alpi venete in realtà ed è un paesaggio stranissimo per per le alpi perché tu parti dalla proprio dalla pianura veneta campagne capannoni eccetera di colpo trovi questo zoccolo questo gradino di mille metri lo risali in breve in automobile e dopo mia mille metri di altezza ti ritrovi in un mondo completamente diverso collinare non tanto montagnoso però essendo colline di mille metri a mille metri sono colline ricoperte di boschi di abeti sembra un paesaggio nordico sembra di stare in canada in scandinavia più che sulle alpi quello era il suo piccolo mondo di cui scrisse tutta la vita è stato il nostro più grande scrittore di montagne è stato anche un grande scrittore di guerra ne aveva fatta tanta anzi in questi giorni ci ho pensato spesso perché lui suo capolavoro suo libro più noto è sergente nella neve in cui parla della ritirata di russia da parte degli alpini italiani e uno delle cose più belle di quel libro lì è il rapporto che lui instaura con i russi pur essendo suo nemico in quel frangente pur fuggendo dai russi che incalzano la ritirata del degli italiani che stanno scappando via si crea un rapporto fortissimo di di rispetto che poi dopo la guerra diventerà anche un rapporto di amicizia con il popolo russo cui lui resterà molto legato ecco mi sarebbe molto piaciuto sentire due parole di mario che con i russi aveva fatto la guerra su sulla guerra che cent'anni dopo ci sta toccando sì infatti infatti mi faceva piacere ricordarlo anche stasera e senti nel libro oltre a tutte queste tracce letterarie che lasci questi indizi come le hai chiamati tu c'è anche un altro omaggio a un artista giapponese infatti il libro è diviso in 36 capitoletti e sono 36 come le vedute del monte fuji di okusai e ce ne vuoi parlare si okusai era un grande forse il più grande pittore giapponese della sua epoca siamo a cavallo tra 7 800 e lui era un grande produttore di di centinaia e migliaia di disegni per tutta la sua vita in tarda età si era auto soprannominato il vecchio pazzo per la pittura un po come i disegnatori di manga giapponesi di oggi ne produceva tantissimi tutti i giorni per stare dietro alle richieste dei suoi editori e verso i 70 anni e 73 se non mi sbaglio arriva al suo capolavoro dopo una vita intera di lavoro produce questa serie le 36 vedute del monte fuji sono 36 dipinti io ne ho diverse edizioni un po li colleziono quando ne trovo una diversa l'uomo e il monte fuji che è sacro alla cultura giapponese viene rappresentato in tutte le stampe in tutti i disegni ora lontano all'orizzonte ora più vicino ora in primo piano ma sempre insieme all'umanità che ai piedi della montagna si dibatte lavora sono tanti lavoratori falegnami pescatori boscaioli mercanti con una carovana di mercanzie e gesce nelle sale da te samurai che stanno andando da qualche parte c'è lo scorrere delle stagioni le stagioni sono spesso impetuose il vento la pioggia la bellezza della primavera la cultura la pittura giapponese è sempre stata molto sensibile al paesaggio alle stagioni anche per questo è un riferimento importante per questo libro che è che è tanto un libro sul paesaggio sull'osservazione della montagna di come cambia nel tempo ed era molto interessante per me mentre scrivevo e scrivevo questo libro all'inizio della pandemia ho cominciato nella primavera del 2020 meditare sul rapporto tra la montagna e l'umanità in questi lavori di opusai la montagna sempre imperturbabile con un po più un po meno di neve a seconda delle stagioni che vede passare questa umanità che è così transitoria che così fragile rispetto alla sua immutabilità e ci vedevo veramente un racconto dei nostri tempi perché da milano monterosa si vede le montagne si vedono in primavera sono ancora innevate e allora quella primavera così radiosa del 2020 quando qui correvano le ambulanze carri funebri la gente la chiusa in casa e vedevi questi cieli pulitissimi la montagna innevata lei in fondo sembrava veramente di stare dentro un disegno di di okusai e così questo racconta è nato un po dalle meditazioni su questo libro e sulla e sul rapporto di cui ecco cercato di parlare tra la montagna non è immortale anche lei cambia anche lei un giorno crollerà questo è il destino delle dei rilievi ma a tempi molto più lunghi dei nostri quindi veramente ci guarda passare come noi vediamo un albero che mette le foglie e poi le perde lo stesso per la per la montagna la vita di un essere umano sì e dicevi anche che sul diciamo sulla sullo sfondo di questo monte fuci ci sono delle scene di lavoro molto spesso e mi sembra che il lavoro sia un tema molto importante di di questo libro e mi ricordo dal tuo romanzo precedente le otto montagne c'erano alcune scene in cui due protagonisti ancora ragazzini giocano nei boschi e trovano delle tracce del lavoro quasi dei quello che resta del lavoro dei minatori dei boscaioli dei pastori e per loro ancora ragazzini questo è uno stimolo all'immaginazione al gioco all'avventura invece nella felicità del lupo fausto più maturo è integrato un po nel mondo del lavoro concreto della montagna e più volte nel romanzo riflette sul rapporto tra il suo mestiere intellettuale di scrittore e quello invece del lavoro che sta facendo in montagna e volevo chiederti un po qual era la tua riflessione sul lavoro che hai portato in questo libro ma trovo che nella letteratura manchi un po il il lavoro soprattutto i lavori più umili lavoro manuale perché gli scrittori di solito non ne sanno tanto e quindi i personaggi della della letteratura di solito sono impiegati gente che fa dei lavori di concetto non meglio precisati ma raramente sono i falegnami gli idraulici gli elettricisti eppure in ognuno di questi lavori c'è una enorme cultura enorme sapienza enorme cultura nel senso di rapporto tra l'uomo e la sua comunità o tra l'uomo e il luogo in cui vive tra l'uomo e le sue mani perché non dimentichiamoci questi strumenti meravigliosi che abbiamo a disposizione dopo millenni di evoluzione che oggi sembrano quasi inutili ci servono solo a digitare sul telefono invece sanno fare tantissime cose se se addestrate e così a me affascina tanto questo questa sapienza dai dai mie ho più amici ho più ammirazione ecco per le persone che sanno fare tante cose con le mani che per quelle che hanno studiato molto forse perché dalle prime mi sento che riesco a imparare riesco a domandare a imitarli a rendermi allievo di questi maestri e trovo che per uno scrittore sia una miniera d'oro addentrarsi in un lavoro per esempio lavorare in cucina per un inverno come è successo a me in ristorante ci sono mille romanzi da scrivere ecco in un in un'esperienza così così come nel fare il boscaiolo a un certo punto avevo i boscaioli intorno a casa quando un paio d'anni fa c'è stata la tempesta vaia che nel nord est delle alpi ha spazzato via schiantato diversi boschi una coda è arrivata anche da noi e ha danneggiato parecchi boschi quindi per le due estate successivi sono stato circondato da dai boscaioli che facevano questi lavori di pulizia del bosco e osservandoli un giorno dopo l'altro lì per esempio mi sono accorto che i boscaioli hanno un cuoco che c'era era una era una signora era una cuoca che per la mattina accendeva un fuoco all'aperto preparava al pranzo perché giustamente i boscaioli in pausa pranzo pranzano e mi fermavo a chiacchierare con questa signora proprio perché mi piace sempre così tanto la cucina e allora ho pensato ma guarda te non credo che ci sia nessun libro nessun romanzo che racconta del cuoco dei boscaioli ma pensa che figura affascinante e ho detto lo farò io e quindi Fausto a un certo punto della sua del suo anno in montagna diventa il cuoco dei boscaioli e così con la figura del gattista per esempio anche questo credo che manchi mancasse dalla letteratura perlomeno quella italiana tutti quelli che vanno a sciare sono abituati a vedere la sera quando le piste chiudono questi gatti delle nevi che partono e poi arrivare la mattina e trovare la pista perfetta liscia spianata ecco io li ho conosciuti gattisti per cui sono stato anche sul gatto una notte sono persone che passano la notte a andare su e giù per le piste con ogni condizione atmosferica spesso arrivando anche ad alte quote a 3000 metri e a preparare le piste per il giorno dopo anche questo mi è sembrato sempre un lavoro molto affascinante e ne ho scritto in questo libro sì e senti a me nel leggere i tuoi libri da da molto gusto sentire proprio la concretezza e la precisione delle parole che usi e anche le descrizioni sono molto vive da un punto di vista sensoriale sembra proprio di vedere i paesaggi gesti dei personaggi di sentire i rumori del bosco ma anche gli odori del bosco e della cucina in questo caso e ti volevo chiedere per te qual è la cosa più importante quando scrivi anche a livello del linguaggio della lingua e delle parole che usi ma sono uno scrittore che persegue la semplicità non è non è innata ecco ma credo che questo uno che legge lo sappia le parole non nascono semplici non nascono pulite la lingua nasce sempre confusa imprecisa sovrabbondante e e quindi il lavoro di alcuni scrittori di quelli che la pensano come me invece di pulire chiarire semplificare arrivare a una forma che alla fine sia semplice ed elegante come un gesto a me viene in mente il gesto di un artista ma anche il gesto di uno sportivo ho fatto atletica leggera da ragazzo ecco nel gesto che sembra semplicissimo di un saltatore di un lanciatore così armonioso così bello da vedere c'è tantissimo lavoro dietro per arrivare alla pulizia e all'eleganza e questo è quello che cerco di fare con la scrittura per cui la parola giusta è proprio la parola del della poesia anche nella poesia si eliminano gli aggettivi per arrivare meno parole ci sono meglio è più la parola è precisa più assume sonorità e più assume significato ogni parola pesa dentro una poesia e quello è il mio modello ci sono anche scrittori che invece lavorano con l'abbondanza la complessità e li rispetto alcuni alcuni ne ammiro però invece la mia strada è questa quella del poeta di haiku quella del di okusai che diceva quando sa roba lui ancora 73 anni scriveva solo adesso ho imparato più o meno a disegnare gli alberi gli animali ma quando avrò cent'anni sarò diventato ancora più bravo e quando ne avrò centodieci forse mi basterà una sola pennellata per disegnare il monte fuji tutto il resto ecco questo io lo capisco anch'io spero che a 10 a 110 anni basterà una sola pennellata una sola frase per una storia dove ci sia tutto sì e senti e ci dicevi all'inizio dell'intervista che se ho capito bene che ti dividi un po anche nella tua vita tra la città e la montagna e quindi ti volevo chiedere un po come ti sei avvicinato al mondo della montagna come come la montagna ha assunto un ruolo così importante nella tua vita e come vivi questa doppia appartenenza che è qualcosa che magari anche noi come italiani che vivono all'estero conosciamo beh mi è entrata nel cuore da bambino e penso che sarebbe stato diverso se come altre persone conosciuto io l'avessi scoperta da grande invece quelle cose che impari da bambino diventano così profondamente parte di te venivo portato in queste montagne a passare l'estate praticamente da quando sono nato e passavo lì due mesi all'anno luglio agosto per un bambino di milano e quindi cresciuto in appartamento milano non è una città italiana in cui c'è vita di strada di piazza eccetera dove i bambini giocano sui marciapiedi o nelle piazze è una città dove si cresce chiusi in casa e quindi di colpo all'inizio dell'estate mia madre che era cresciuta invece in campagna si sentiva molto tranquilla quando andavamo su in montagna a lasciarmi libero nel bosco sul torrente nei prati e lì mi inselvaticivo ho imparato anche ad andare sul ghiacciaio ad arrampicare su roccia da molto piccolo mi mandavano con una guida alpina fin da quando avevo otto nove anni era una cosa che si usava una volta a mandare i bambini a fare alpinismo adesso un po meno e mi dispiace perché era un'esperienza che è rimasta molto importante per me poi mi sono allontanato da dai luoghi dell'infanzia come succede per anni dopo i 20 e poi ci sono ritornato dopo i 30 quando arriva l'età in cui magari cerchi un po di capire quali sono le tue radici di capire un po meglio da dove vieni quali sono le cose importanti per te e quindi ho riscoperto l'importanza di quella montagna di infanzia che è tornata quella della mia età adulta e rispetto alla mi non ci sono mai andato a vivere del tutto perché è una parte della mia anima in città della conosco la bellezza della città che la bellezza delle delle persone della diversità degli esseri umani della cultura dell'arte della musica tutto questo mi manca in montagna che è molto ricca di bellezza naturale ma un po meno di bellezza umana devo dire e allora cerco un equilibrio nell'andirvieni nel passare un po di tempo lassù per me soprattutto l'estate e in città soprattutto l'inverno come saprete si fa fatica a dividersi tra due posti perché non appartieni più del tutto a uno e non apparterrai mai del tutto all'altro non sarò mai un montanaro non sono forse più del tutto un cittadino e ci si sente metà e metà ci si sente di ecco si invidiano un po delle volte le persone che invece si sentono una cosa sola un tutt'uno di appartenere profondamente a un posto e basta ma poi in fondo a volte ci si sente anche fortunati ad avere due metà che si possono coltivare insieme a tutte le relazioni che questo comporta i miei amici in montagna i miei amici in città o i miei interessi in questi due mondi e ci sono delle difficoltà nel passare da uno all'altro però insomma cerco di tenerli di tenerli insieme sì ti possiamo capire penso sia abbiamo aggiunto un po di complessità diciamo alle nostre vite ma anche una ricchezza penso e senti nel nel romanzo questa un po tensione tra tra l'uomo e la natura mi sembra sia presente anche a livello al di là delle esperienze individuali a livello un po più ampio cioè ci sono degli elementi naturali che perdono un po terreno per l'intervento umano e allo stesso tempo ci sono luoghi prima popolati che si stanno spopolando infatti lasciano di nuovo spazio alla natura più selvatica per esempio con il ritorno dei dei lupi e e quindi ti volevo chiedere tu che vivi la montagna dal di dentro e anche conoscendo tutte le preoccupazioni che abbiamo sull'impatto dell'uomo sulla natura tu come affronti questa problematica se c'è un tema davvero forte dei nostri anni quello che forse caratterizza la nostra epoca rimarrà in futuro legato a questi anni anche se è impossibile dirlo per i contemporanei però se devo fare una previsione penso che i nostri sono gli anni in cui questa nuova sensibilità ambientale che non c'è mai stata prima ecco si è diventata così importante oggi l'ambiente la natura sono veramente primissimi posti dei nostri discorsi i nostri discorsi pubblici della politica di quello di cui discutiamo lo leghiamo leghiamo all'ambiente il nostro rapporto con la terra a quello che è successo con la pandemia lo leghiamo quando scoppia una guerra lo leghiamo un po tutto oggi e quindi abilitando in parte in montagna mi sento un po in prima linea in questo discorso nel senso che fare un discorso sull'ambiente dalla città sì città se la temperatura cambia di due gradi oppure piove o non piove fondo ce ne accorgiamo quasi quasi non ce ne accorgiamo dobbiamo uscire con l'ombrello oppure no metterci una giacca più pesante ma per il resto la nostra vita non cambia in montagna la nostra vita cambia se in un inverno così sulle alpi occidentali non ha mai nevicato ho visto dei dati del meteo svizzero per cui questo è l'inverno più caldo e secco cioè caldo e senza precipitazioni da quando la svizzera fa le sue rilevazioni cioè dal 1830 e se i torrenti si asciugano i torrenti si asciugano vuol dire che dopo un po non ci sarà più acqua nei nostri rubinetti in città un giorno apriremo i rubinetti non uscirà più nulla ecco in montagna lo vedi succedere prima lo vedi perché il ghiacciaio si ritira e lo vedi perché non c'è acqua nei torrenti appunto eccetera e tornano i lupi tornano i lupi e questo non è un cambiamento climatico ma è un cambiamento antropologico perché torno i lupi non tornerebbero non sarebbero tornati se la montagna fosse abitata come era abitata un secolo fa quindi si vedono i segni dello spopolamento i campi che sono ritornati i boschi le baite che crollano e piano piano ritornano montagna perché queste baite di pietra e di legno piano piano si disfano e ritornano quello che erano prima questo è anche bello a me consola un po il fatto che l'uomo possa anche essere dimenticato dalla terra e devo dire quindi quando la terra si dimentica dell'uomo poi tornano i lupi che se ne erano andati per colpa nostra trovano di nuovo uno spazio di libertà un luogo dove vivere dove noi siamo andati via ricordiamoci che noi siamo l'animale più feroce che abiti sulla terra siamo noi il dittatore siamo noi quello che non ha nemici quello che comanda quello che uccide ecco e tutte queste riflessioni tante altre che poi vanno a finire nei miei libri non credo che le farei abitando in città non sarebbero solamente speculazioni intellettuali e invece abitando in montagna sono pensieri quotidiani guardando fuori dalla finestra girando nei boschi e vedendo come sta come sta cambiando la montagna oggi grazie e io ho un'ultima domanda ho perso un po la cognizione del tempo però no siamo ancora in in tempo e ho un'ultima domanda ritornando un po al tema iniziale della felicità delle seconde chance della cura di sé degli altri e avendo letto sia la felicità del lupo che le otto montagne mi è sembrato che la felicità del lupo abbia come una maggiore dolcezza più una speranza anche di trovare aiuto di trovare supporto o di rifugiarsi lontano però magari non da soli ma magari in due c'è anche questa prospettiva che resta aperta nel libro e volevo quindi chiederti come ultima domanda in che stato d'animo eri quando hai scritto questo questo romanzo sì sono contento di questa tua questa tua considerazione perché le otto montagne era un romanzo che coinvolgeva veramente i sentimenti grandi di una vita no il rapporto con un padre il rapporto con un amico che ti accompagna durante tutta l'esistenza e la felicità del lupo invece un libro sui sentimenti piccoli senza che per questo siano meno importanti nella vita delle persone perché ne abbiamo tanti di sentimenti piccoli i piccoli incontri i modi in cui ci prendiamo cura uno dell'altro in cui ci diamo o chiediamo rifugio a vicenda il sentimento di consolare o di essere consolati di essere accarezzati accolti di chiedere aiuto ecco è molto su questo sì hai ragione tu e mi sentivo in uno stato d'animo un po' angosciato caspita sono stati difficili questi ultimi due o tre anni eravamo tutti chiusi in casa e quindi fuori c'era quello che sappiamo le notizie riguardavano solo la pandemia a me per me era molto strano non poter andare in montagna una cosa che non mi è mai successa una libertà che mi sono conquistato quella di poterci andare ogni volta che mi va invece ero a milano come tutti chiuso in casa e quindi nel in realtà nello scrivere questa storia così dolce ho trovato molto riparo è un libro rifugio rifugio è una parola importante nella storia ma è anche importante per la storia era un rifugio per me mentre lo scrivevo e quindi alzarmi la mattina ritornare dentro queste vite dentro questi sentimenti e a volte i lettori mi dicono che è un rifugio per loro leggerlo e quindi sono contento infatti davvero consiglio la lettura di di questo libro a tutti quelli che ci stanno seguendo ti ringrazio grazie tantissimo per aver condiviso tutti questi pensieri e le tue esperienze e ripasso la parola a Manuela davvero grazie anche perché hai fatto appunto questo confronto con noi di italiani all'estero volevo appunto dirti che siamo sul canale di Francoforte ma anche quello di Dusseldorf e comunque ci seguono anche da altre grandi città della Germania mi è piaciuto molto questo paragone che hai fatto di te che vai in montagna e scopri un mondo nuovo di noi che dall'Italia andiamo in un altro paese in qualche modo dobbiamo riscoprirci e reinventarci perché è proprio così quindi grazie di questa considerazione che per noi è sicuramente molto molto importante e grazie anche del fatto che come avevo detto ci siamo veramente regalati un'ora di immagini anche belle di suoni e odori della montagna e quindi ci siamo avvicinati veramente alla bellezza e ci voleva perché come dicevo sono veramente giornate veramente pesanti per tutti quanti quindi è un lusso che ci siamo potuti permettere e quindi ti ringraziamo veramente Paolo per questa ora di letteratura bella e di immagini belle e serene anche della montagna e del lupo che in qualche modo ci avvicinano un po' anche alla pace alla pace che in questo momento non riusciamo tanto a immaginare nel nostro animo e niente leggo l'ultima una considerazione di Federica Ferrelli è un po' lunga allora Federica Ferrelli scrive mi chiedo se l'autore che vive la montagna come quotidianità come normalità e che descrive le persone che fanno parte di quella realtà con grande concretezza pensa mai che il lettore metropolitano trova nelle sue parole che lui dice semplici tutto un immaginario che essendo molto distante dalla sua quotidianità è tutt'altro che semplice in senso positivo ovviamente un mondo estraneo forse anche complesso un altrove che genera molta sorpresa e curiosità quindi la signora Federica dice da metropolitana trovo immaginarmi la vita in montagna in realtà non una cosa semplice ma anche una cosa complessa beh a me succede con la grande letteratura di mare un rapporto ovviamente molto più distante con il mare quindi quando leggo Corrad, quando leggo i racconti marinari di Jack London o di Hemingway è un mondo proprio lontanissimo e mi piace molto questo potere della letteratura di trasportarti in un mondo così diverso dal tuo di insegnarti, farti scoprire cose nuove è bello quando leggi un libro impari delle cose che non sapevi è così, è un'altra funzione per tempi difficili è quella di portarti lontano e farti fare un viaggio che magari non puoi fare davvero in questi tempi difficili mi consigliamo veramente la lettura di questo libro anche appunto qui in Germania per regalarci dei momenti anche molto piacevoli c'è anche in tedesco per chi vuole c'è anche in tedesco esatto, benissimo quindi davvero grazie di essere stato con noi grazie a voi e alla prossima al prossimo libro grazie buona serata buona serata, ciao ciao